Israele, mozione unanime di solidarietà alle popolazioni vittime dell'attacco di Hamas, il ringraziamento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo alle forze politiche. Al via a Certaldo la venticinquesima edizione di Boccaccesca presentata alla rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane. A caprese Michelangelo tutto è pronto per la festa della castagna, il tradizionale appuntamento con la castagna e il marrone d'op si svolge nei giorni 14, 15 e 21, 22 ottobre. Nel corso della manifestazione anche una giornata di studio dedicata all'opera di Michelangelo Buonarroti. Piena solidarietà allo Stato di Israele per il gravissimo attacco terroristico subito e preoccupazione per la spirale di violenza che l'attacco terroristico di Hamas dello scorso 7 ottobre sta provocando, soprattutto a danno delle popolazioni civili vittime innocenti del conflitto. È quanto esprime il Consiglio regionale nella mozione approvata all'unanimità senza dibattito per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dall'attacco terroristico di Hamas. L'atto di indirizzo, che nella fase narrativa ricostruisce la lunga storia di frizioni, scontri e attività diplomatiche riguardo alla questione israelo-palestinese in particolare e medio orientale in generale, ribadisce la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani e indiscriminati contro la popolazione civile inerme. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel comunicare l'esito unanime del voto, ha ringraziato tutte le forze politiche, sottolineando che la bellezza della politica di fronte ad atti di gravità enorme è trovare la sintesi per esprimere in modo unanime la condanna dell'attacco sferrato contro Israele e la solidarietà alla popolazione vittima di questa follia di guerra. Sentiamo tutti i commenti da parte dei consiglieri regionali. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbaria che il gruppo terroristico di Hamas ha scadenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. Allora in Aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa, un impegno forte. L'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Ma credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza dal punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri uccisi. È una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Mediorente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro Governo. Serve una presa di posizione netta, di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla e credo che sia importante soprattutto anche nell'ottica della cooperazione internazionale. In Toscana purtroppo non è come la vorremmo, facciamo molta poca attività di cooperazione internazionale, ma sulla cooperazione sanitaria abbiamo ancora dei passaggi che possono essere fatti. Io credo che il prossimo auspicio che dovremo fare per la Regione e impegno sia quello di cercare di dare una mano sotto questo profilo per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza sanitaria in quelle zone di guerra. Le immagini che arrivano dal Medio Oriente ci lasciano tutti sconvolti. Oggi il Consiglio regionale si è espresso unanimemente su questa vicenda durante l'ufficio di presidenza di questo pomeriggio. Io ho proposto di far sì che la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione della festa della Toscana dedicata a Don Milani sia anche un momento di riflessione di pace. Ho proposto, la richiesta è stata accolta unanimemente da tutto l'ufficio di presidenza, che siano invitati i rappresentanti locali delle tre religioni monoteiste, quindi l'imam, il rabbino capo e il vescovo di Firenze. Penso che potrebbe essere, se accogliessero l'invito, un buon momento appunto per riaccendere questo dialogo di pace, questo dialogo tra le varie religioni e per trasformare la festa della Toscana, per trasformare la seduta solenne del Consiglio regionale per la festa della Toscana in un momento di pace e di dialogo. Sì, ritengo sia un gran risultato e un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, partendo anche da un documento che noi avevamo presentato. Beh, è una drammatica situazione, è una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina. Per cui credo che ci stiamo avviluppando, avviluppando noi come genere umano, su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica. Quindi ognuno che sia padrone nel proprio Stato. Abbiamo ovviamente espresso il cordoglio all'inizio della seduta e speriamo di arrivare a un atto a votare all'unanimità. È un momento nel quale atti di barbarie e di terrorismo così violenti, insomma, che veramente hanno colpito tutti quanti, tutte le nostre coscienze, debbono essere condannati senza se e senza ma, anche perché poi sono atti che portano danni al popolo israeliano, ma sicuramente anche al popolo palestinese. Quindi la lotta al terrorismo è una lotta forte e in quella terra progetti di pace e di convivenza sembrano ora più lontani, ma la comunità internazionale deve lottare perché questo possa diventare una realtà nei prossimi anni. Sì, mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere le controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. Anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votato uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. Ogni parola è una parola che rischia di essere insufficiente a descrivere quello che sta avvenendo. È chiaro che è uno scenario complesso del quale non si intravedono soluzioni a breve. Pareva che un clima di convivenza in qualche misura fosse stato raggiunto, altrimenti un rave di quelle proporzioni non si sarebbe giustificato. I fatti di questi giorni testimoniano appunto che non c'è limite alle feratezze e alla disumanità delle condotte degli uomini purtroppo e che le organizzazioni terroristiche sono il principale inciampo a qualunque operazione di pace che sarebbe già difficile e che è complicata e complessa anche per quanto riguarda l'incontro dei popoli. Qui non si tratta di questo, è in gioco l'azione di una cellula terroristica potentissima come Hamas che ha innescato una repressione, come ha detto lo stesso Presidente Biden, ci auguriamo non sproporzionata ma anche se fosse proporzionata sarebbe gravissima. Sì, indubbiamente siamo in una situazione in cui l'escalation della violenza è stata portata all'estremo con centinaia di persone che oggi sono state addirittura prese in ostaggio se non spettacoli di bambini addirittura decapitati. È una situazione estremamente grave, una situazione che avrà e sicuramente ne dovremo affrontare sotto i quanti le conseguenze anche imprevedibili sotto il punto di vista umanitario ma anche sotto il profilo politico. Sembra qualcosa di distante da noi, in realtà quanto accade in Medio Oriente, quanto accade ancora in Ucraina sono vicende che hanno e avranno dei risvolti importanti anche su quella che potrà essere la nostra quotidianità. Le situazioni di squilibrio a livello internazionale hanno delle conseguenze sul piano economico, sul piano sociale, pensiamo alla questione immigrazione ma pensiamo anche più banalmente a quello che vuol dire il rincaro sulle materie prime, il rincaro sui carburanti. Noi stiamo combattendo in questi tre anni, prima con una pandemia, oggi con dei conflitti che appunto mettono a dura prova la tenuta economico-sociale del sistema Europa, il nostro sistema valoriale e di conseguenza anche quello che potrà essere il margine di manovra sia a livello nazionale e sia a livello governativo, anche perché tutte quelle che dovranno essere le prossime scelte di politica economica, di politica anche proprio sul piano sociale, dovranno scontare un quadro internazionale assolutamente incerto e molto serio e complesso. Alvia la venticinquesima edizione di Boccaccesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane che si svolge a Certaldo dal 13 al 15 ottobre. Il programma che coinvolge il Borgo Basso e Certaldo Alta trasforma la località toscana in un grande contenitore all'aperto di buon cibo e ottimi vini. Nelle strade del Borgo Alto viene allestita la mostra a mercato con espositori ed eccellenze gastronomiche artigianali provenienti da tutta Italia. L'iniziativa percorso del gusto permette invece di partecipare a una degustazione itinerante con tanto di mappa da seguire. Per gli amanti del buon vino c'è l'enoteca di Boccaccesca dove gustare le eccellenze locali. Nel programma non mancano momenti di approfondimento e riflessione come il concorso ragazzi in pentola dedicato ai ragazzi delle scuole e il premio Boccaccesca. Soddisfazione da parte di Federica Fratoni consigliera regionale. Sicuramente è un traguardo molto importante devo dire che come ufficio di presidenza del consiglio regionale ma credo di poter parlare a nome di tutto il consiglio regionale è un grande piacere ospitare qui nei locali del consiglio appunto la presentazione di questa venticinquesima edizione perché la Toscana è questo, sono borghi straordinari e la celebrazione delle nostre eccellenze. Certaldo devo dire si contraddistingue da sempre per manifestazioni di altissimo livello e questa sicuramente una fra quelle per cui io credo ecco che questi momenti siano molto importanti nel fare comunità, nel riscoprire i gioielli del nostro territorio e nel saperli promuovere dando un profilo profondamente radicato con la nostra storia, con i nostri usi e costumi per cui in questo devo dire che la Toscana diffusa di cui spesso parliamo ha forse la sua rappresentazione più efficace per cui davvero ci auguriamo che sia una splendida edizione e saremo tutti per le vie di Certaldo da assaporare i sapori migliori della nostra Toscana e vivere momenti davvero di comunità molto gioiosi. Boccacesca è una manifestazione consolidata, una delle prime rassegne che hanno saputo coniugare efficacemente enogastronomia, luoghi tipici e turismo, lo ha detto Enrico Sostegni, consigliere regionale. Sì, Boccacesca è arrivata alla venticinquesima edizione, un quarto di secolo, quindi una manifestazione più che consolidata che è partita tra le prime che hanno voluto coniugare l'enogastronomia al luogo, al turismo, cosa che poi negli anni si è sviluppata anche in tanti altri territori e che qui ha voluto comunque rappresentare un punto di avanguardia che ora è consolidato e che rappresenta un momento di presentazione delle eccellenze enogastronomiche, un momento per vivere il borgo di Certaldo, quello alto, quello medievale, però anche tutto il paese di Certaldo, insomma una bella occasione per conoscere Certaldo e in questo caso attraverso Certaldo le caratteristiche di tutta la Toscana. Si conferma questo uno degli appuntamenti principali della nostra città, ha detto Jacopo Masini, assessore allo sviluppo economico del comune di Certaldo. Per quest'anno ci aspettiamo ancora un'evoluzione perché Boccacesca non è nata e rimasta lì, si è sempre evoluta, si è sempre evoluta con particolari tipi di eventi, di cookie show, con momenti di cucina insieme ai bimbi delle nostre scuole, quest'anno avremo fra l'altro delle attività ulteriori rispetto a quelle classi che finora Boccacesca ha avuto, con momenti di intrattenimento musicale, si ripropone l'angolo dei gemellaggi in cui i comuni che sono gemellati appunto con Certaldo propongono i loro prodotti culinari e gastronomici, c'è uno stand della Moldavia con cui siamo gemellati che propone la vendita dei propri prodotti, avremo una delegazione del comune di Carramaci del Giappone che preparerà lì dei piatti tipici della cucina appunto nipponica come la Tempura e dei piatti della tradizione culinaria cinese perché noi tramite Carramaci abbiamo anche un rapporto con la città di Arbin che a sua volta era collegata con il comune di Carramaci, abbiamo anche un angolo dei nostri amici delle Marche di Cossignano quindi siamo aperti poi a tutte le esperienze, a tutte le possibilità per far assaggiare, per rendere appunto fruibili a chi arriverà a mercanzia, ai nostri concittadini e speriamo anche a un cittadino dei paesi limitrofi e anche fuori regione, chissà. Boccacesca è da 25 anni un viaggio entusiasmante che unisce l'enogastronomia di qualità all'arte ed artigianato, afferma Claudia Palmieri, direttirice artistica della manifestazione. Allora abbiamo in programma tantissimi espositori da tutta Italia, le cose più disparate dalle bombette dalla Puglia, il caciocavallo impiccato, le cose più diciamo più nuove ma anche conosciute anche perché in 25 anni Boccacesca, io ne ho viste tante sinceramente, dal primo anno che si è costruita. Quindi poi, come ha detto Franco Broggi, la musica e l'artigianato che fa da accompagnamento, da cornice a tutto quello che è il cibo. Ci sarà la novità, ci saranno degli street food particolari, su in Certaldo Alto la cipolla, 100 sfumature di cipolla e quindi tante cose. Boccacesca è sempre una sorpresa, sinceramente non vogliamo mai, vogliamo stupire i nostri visitatori. Questa manifestazione da anni valorizza le eccellenze neogastronomiche e artigianali italiane, ha detto Franco Broggi, presidente Fiepet Confesercenti Firenze. Le novità di quest'anno sono che dopo 25 anni Boccacesca riesce, secondo noi, a stare al passo con i tempi, ad essere sempre una manifestazione moderna e abbineremo una serie di eventi musicali sia nel borgo alto che in quello basso, che faranno sì che la manifestazione riesca comunque ad essere sempre più attrattiva verso i nostri clienti e avventori. Tutto è pronto per la tradizionale festa della castagna, che si svolge a Caprese Michelangelo negli weekend di ottobre 14 e 15 e 21 e 22. Durante l'evento vengono allestiti stands gastronomici con piatti a base di marroni, bancarelle di prodotti tipici legati al territorio di Caprese Michelangelo, quali miele, formaggio, birra agricola e tanto altro. Verranno anche organizzati laboratori per bambini e rievocazioni degli antichi mestieri. Una festa importante perché si basa su un'eccellenza toscana come la castagna, ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Credo che questa festa sia tra quelle che trovano maggiore interesse da parte non solo degli aretini ma di toscani e oltre, proprio perché si basa su un'eccellenza che è la castagna. Dobbiamo essere concretamente utili per far sì che questo prodotto, che ha una sua straordinaria storicità, possa avere un futuro. La castagna è stato un elemento fondamentale per la cosiddetta economia della selva nel Medioevo. Non era soltanto un prodotto ma era un bene di commercio, un bene di scambio insieme con i cereali e questo ci permette di riflettere su quello che è stata in passato la Toscana. E non a caso Caprese viene da Capra, probabilmente c'era un villaggio di allevatori, di pastori ed ecco l'importanza della foresta, della castagna. Un appuntamento tradizionale e una bellissima festa, ha aggiunto il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. È un appuntamento tradizionale ma anche una bellissima festa e soprattutto è quello che celebra un'eccellenza della nostra montagna di Caprese in particolare. Attorno alla castagna e al marrone di Caprese, come abbiamo ascoltato, lavorano delle persone, lavorano tutto l'anno. Questo è importante al di là dei quattro giorni di festa che porteranno tantissime persone ad apprezzare questo bellissimo paese della Toscana in Val Tiberina. Perché il prodotto locale, in questo caso il marrone consente alle persone di poter abitare, di poter lavorare in queste realtà, nelle cosiddette aree interne, alle quali noi abbiamo rivolto anche una particolare attenzione con la legge custodia della montagna che voglio ricordare intende dare contributi fino a 6.000 euro per le nuove aziende che vengono create e 3.000 euro per quelle già esistenti che fanno un patto di comunità con l'amministrazione comunale ogni anno per cinque anni. Sono emozionata nel presentare in consiglio regionale questa festa, ha detto Marida Abrogialdi, sindaca di Caprese Michelangelo. Sono, devo dire, emozionata di essere qui e anche orgogliosa di essere presente in questa sala conferenza del consiglio regionale. Pertanto volgo il mio ringraziamento al vicepresidente Carlo Casucci, al presidente Mazzeo e anche al nostro presidente della regione Eugenio Gianni, tutte personalità unitamente ai consiglieri che io ho desiderio di avere, incontrare prossimamente presso il mio comune. La festa della Castagna, che è la 53esima edizione, si svolgerà il 14.15 e 21.22 di ottobre prossimi, presso Caprese Michelangelo. Si sviluppa tutto intorno al borgo, è un piccolo borgo ed è un mercato pieno di stand che non sono solo gastronomici e che è importante, ma sono anche dell'artigianato, prodotti del territorio. All'interno della programmazione della festa abbiamo inserito il 15 ottobre un evento culturale con il convegno. Qui nacque il genio Michelangelo Architetto, ha detto il consigliere comunale Simone Palermo. All'interno della programmazione della festa della Castagna ci sembrava giusto e opportuno inserire anche un evento culturale che si terrà presso il Museo Casa Natale di Michelangelo Bonarroti, che è il nostro fulcro, il centro della nostra comunità, che sarà intitolato qui. Qui nacque il genio e vedrà come interventi quattro relatori che porteranno dei loro contributi su quello che è stata l'opera di Michelangelo dal punto di vista architettonico. Quindi è un evento che abbiamo voluto inserire in questo momento, che è un momento di festa, un momento che la comunità ovviamente è sì un momento in cui si lavora, però è anche un momento in cui si festeggia, quindi un evento fruibile per tutta la popolazione, anche se ha questo taglio culturale. Per Gino Lazzeri, presidente del comitato organizzatore, occorre sottolineare la massima collaborazione di tutti i cittadini alla realizzazione dell'evento. Allora, le novità ce ne sono molte, sia il primo weekend che il secondo. Per il secondo weekend avremo il nostro fiore all'occhiello che il comitato donerà un'opera al comune di Caprese Michelangelo, di cui ne vado molto fiero, grazie alla collaborazione di tutto il gruppo che siamo stati molto uniti. Infatti la cosa che ci tengo a precisare è che Caprese Michelangelo sì, siamo 1300 abitanti, però quei pochi che siamo siamo molto uniti e molto collaborativi e quindi questa cosa mi rende veramente orgoglioso.